Attestati del Trinity College London per i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Bianchieri a 20 Miglia Abbiamo deciso di valorizzare i nostri ragazzi che hanno conseguito un diploma molto importante che è quello del Trinity, noi siamo ente certificatore come scuola e siamo molto molto felici per loro perché è un obiettivo internazionale e siamo molto anche grati all'amministrazione comunale per la vicinanza che ci ha dimostrato in questo percorso e in tutti gli altri percorsi che sta intraprendendo il nostro istituto Tra l'altro sono emozionata perché il Trinity io lo conseguì ben in terza media quindi so che è uno step molto importante per i ragazzi, l'internazionalità nella conoscenza anche delle lingue quindi come assessora alla cultura molto soddisfatta tra l'altro io e anche il vice sindaco che poi altro non è che l'assessore alle scuole stiamo facendo anche un ottimo lavoro per quanto riguarda proprio il coordinamento di varie attività e di iniziative nonostante varie diciamo così problematiche affrontate con vari spostamenti anche delle aule come sappiamo anche per i PNRR che la scuola appunto si è giudicata l'ente comunale anche si è giudicata per lavori di rifacimento proprio ripristino anche dell'antisismica come struttura quindi una giornata di festa che si è conclusa con un piccolo rinfresco devo dire con tanta soddisfazione da parte sia dei ragazzi ma soprattutto dei genitori grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti